Benvenuti ragazzi, sono sempre io, AKKiller, e oggi siamo qui in un video un po' speciale perché io e il mio collega Yaxit, vi vorremmo parlare un po' di cose riguardanti il canale Esatto, allora, innanzitutto ragazzi siamo tornati, come avete già potuto notare, dalla lunghissima pausa delle vacanze che non è tanto lunghissima, e quindi vi portiamo un po' di novità, un po' di notizie dal nostro canale, dallo staff e da un po' di progetti futuri adesso lascio la parola AKKiller che introduce la prima notizia, la più tremenda Sì, allora, la notizia più triste, più scioccante è che Omicronix ci ha abbandonato non nel senso che è morto, ma che ha abbandonato il canale Perché, chi lo sa, ormai non lo sentiamo più da mesi comunque ha abbandonato il canale perché con la scuola e con altri impegni non aveva più tempo per stare dietro a questo, diciamo, lavoro che comunque fa perdere molto tempo anche Esatto Poi gli mancava anche purtroppo un po' la voglia perché è comunque faticoso fare video mettersi lì, registrarli e comunque portarli quasi tutti i giorni sul canale Quindi niente, lo abbandoniamo con un bel ricordo ha contribuito molto alla community comunque Riposa in pace Riposa in pace Spezziamo la lancia in suo favore, dai Tutti i video delle Crack, una buona parte dei video delle Crack Eh, avrà fatto almeno 70-80 mila visualizzazioni Esatto, la mia nostra metà nel nostro canale l'ha fatta lui Quindi, insomma, lo salutiamo Detto ciò, partiamo con le nostre nuove notizie, diciamo, sui video, le novità, i nuovi obiettivi Allora, io e a Kakili ci siamo proposti un obiettivo ambiziosissimo Eh, ovvero, a iniziare altre due serie Oltre a continuare adesso, parliamo in dettaglio Prima di tutto, la serie del F2Play che abbiamo avuto un discreto successo Insomma, è un lavoro lunghissimo, però intendiamo continuarlo perché dà davvero soddisfazione Esatto E, stiamo già lavorando il video del F2Play però con Killer Oh yes Diciamo che ci sta lavorando anche a Killer, quindi procediamo a rilegare Dettaglio, comunque vi portiamo, il prossimo video se si può dire sarà su War Thunder Sì, l'anticipazione Al massimo lo bippiamo Mettevo un bel bip No, comunque, sarà su War Thunder, vi introduciamo il gioco, visto che ci sono stati anche degli aggiornamenti molto importanti E il primo sarà di sicuro quello Esatto Poi, ci lanciamo di nuova bomba sui strategici ma con un diverso metodo Invece di fare un gameplay sugli strategici, facciamo una recensione sugli strategici Quindi sarà completamente diverso, completamente più lungo E questa serie sarà gestita da me e spero anche da Kakilla Beh sì, assolutamente Io probabilmente porterò più magari la serie dei Total War, visto che ho anche un clan Invece lui porterà di sicuro la serie degli Empire Earth, Age of Empires, Age of Mythology Sì, che è degli Scalfis Esatto Poi ci sarà anche di sicuro Stronghold, visto che lui con la sua magica serie Ah, la serie tra l'altro stava quasi per finire, sono avanti per l'ultimo episodio Ah, mi spiace Anzi no, non mi dispiace Immaginavo Scherzo Comunque Di sicuro Eh, beh Cos'è, stop Scusatemi ragazzi, ma perché vi ho fatto una specie di foglietto con gli appunti E Yaxi, tu scrivi malissimo, non ho capito un cazzo C'è scritto Nuova serie SV che sta per Star Wars Ah, ok Sembrava tipo scritto Sun Comunque Bene, vogliamo aprire una nuova serie su giochi basati su Star Wars Più o meno tutti, ci proviamo insomma, come al solito Anche qui non gameplay, come abbiamo un genio iniziato a fare Che è un po' pesantino da vedere Non da fare, ma da vedere Perché da fare diciamo che è molto più semplice e più sciallo Esatto Invece da fare sarà un bel lavoro Comunque ci metteremo in impegno e spero che anche PHTDR mi aiuterà Ma non lo so, proprio non ci conta Lui sperimenti mi sta facendo passare per il... Per il più inutile Per il pigro della situazione, comunque è vero Esatto, perché è vero Esatto Quindi boh, per quanto riguarda il canale non abbiamo altre novità A proporvi già abbiamo un bel programmino fitto Esatto Comunque vabbè, novità sul canale che abbiamo superato i 2100 iscritti se non sbaglio Sì, e salutiamo tutti i 2100 iscritti Anche 2100 Esatto Chiudi Anzi, salutiamo le 40 persone che vedono questo video Niente, beh, poi per quanto riguarda il sito che fa cagare Mi hanno detto, ma lo so anch'io E se ho tempo, voglia... Perché è molto impegnativo anche quello di da fare Annaggia, non avete idea E dicevo, se ho tempo, voglia e benedizione di Dio Allora magari lo faccio È un po' meglio, ho qualcosa da sistema Insomma, è un se Diciamo che passa in secondo piano rispetto al resto delle cose Esattamente Diciamo che se avremo tempo lo faremo Comunque ragazzi Per questo video diciamo che è tutto Perché le notizie sono queste Io vi ricordo, quindi niente, di dare un'occhiata al canale Di guardare se non l'avete guardato Il video di PlanetSite Perché è veramente bello Bellissimo Ci sono troppo impegnati E quindi va visto E niente, ragazzi Allora aspettate, commentate, mi raccomando Che vogliamo sapere idee Suggerimenti che avete Anche i pareri comunque che avete Insulti vari Speriamo di no Speriamo non troppi E quindi niente, ragazzi Allora Da oggi, per oggi è tutto Spero che vi siete goduti Il gameplay di fondo Che ha fatto K-Killer E quindi Diciamo è un po' A culo No, non è vero In realtà sono overpower Comunque è un gameplay di PlanetSite 2 Per chi non conoscesse il gioco E guardatevi il video Per conoscere meglio il gioco E comunque ragazzi Da ItalianGamer è tutto Ciao a tutti Un saluto da Yaxit E a K-Killer Ciao ragazzella